Ha peccato! Deve essere la peccatrice! Ma va! Colpevole! Adulterra! Hai tradotto tuo marito! La peccatrice! E' addempio! A peccatrice! Finite! Dobbiamo giudicare questa peccatrice! Che cosa succede? Ha peccato! E' un'adultera! Deve essere punita secondo la legge! Portatela dal maestro! Via! Via! Capito? No! No! Fermi! Fermi! Un momento! Maestro, che dobbiamo fare? Questa donna è stata accolta in flagrante adulterio. La legge di Mosè dice di lapidarla. E tu, cosa dici? Rispondi maestro! Cosa dobbiamo decidere? E' una peccatrice! Dobbiamo lapidarla! Chi fra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. St walka! Carmi la qua! Chi fra di voi è senza peccato, devo dire che si Paleo DOG è statnava avlevata! Grazie a tutti. Dove sono i tuoi accusatori? Non c'è più nessuno che ti voglia condannare. No, no nessuno. E neanche io ti condanno. Va, e non peccare più. No, no nessuno. No, no nessuno. No, no nessuno. No nessuno. No nessuno.